Scusa, se è la cascetta del gioco, non c'è qualcosa per pulirla? Eh? Guardate! Oh! Guarda! Regà! 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 What? What? Guarda! Guarda! Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Io non capisco, mi dice che solamente il 40% della GPU sta venendo usata, quindi è meno tantissima. Beh. GPU 50, memoria 45. Boh, non capisco. Grazie. 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 Vi è incominEMAino inserita. Dove. Mi ha colpito ed ho girato di schiena La mia colpito ed ho girato What? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.